Salve a tutti, benvenuti in questo seminario nell'ambito del forum PA organizzato dall'Istituto italiano di Project Management. Sono il professor Vito Entrona, membro del consiglio esecutivo dell'Istituto e mi auguro che questo intervento sia di vostro interesse. Sappiamo bene che da qualche anno ormai le parole chiave per la pubblica amministrazione sono trasformazione digitale e innovazione, ma i fatti seguiti a queste parole sono tutt'altro che soddisfacenti, soprattutto non possono esserlo a livello generale e mai in questo periodo c'è bisogno invece di un'APA che accompagni il paese nella trasformazione digitale e nel rilancio dell'economia, favorendo lo sviluppo in tempi brevi e certi delle innovazioni in grado di generare maggiori benefici per i cittadini e per le imprese. Per attuare questo percorso saranno assolutamente fondamentali, da una parte la capacità di selezionare e sviluppare un portafoglio di progetti di innovazione in grado di fornire il massimo valore possibile per i cittadini, in particolare favorendo la digitalizzazione del paese e dall'altra la capacità di realizzare in tempi brevi e certi i progetti individuali. Sarà dunque necessario che l'APA comprenda a fondo cosa significa innovare nel settore pubblico e sia in grado prima di tutto di innovare se stessa, introducendo una vera e propria organizzazione per la gestione dei progetti di innovazione, che prenda a riferimento come buone pratiche i recenti standard internazionali relativi ai sistemi di gestione dell'innovazione e alle emergenti figure dell'innovation manager e dell'innovation project manager. Approfondiremo questo tema grazie a tre membri del gruppo di lavoro sull'innovation project management dell'Istituto Italiano di Project Management. Partiamo dunque con il dottor Flavio Detrane che nel gruppo FS si occupa di governance dei processi e risk management ed è membro del consiglio direttivo dell'Istituto. Chiediamo a lui cosa significa innovare nella pubblica amministrazione e quali sono le difficoltà specifiche che si incontrano sviluppando progetti nella pubblica amministrazione. Grazie Vito, buongiorno a tutti. Prima di addentrarmi sui temi specifici del mio intervento faccio una premessa per poter arrivare a capire che cosa è nel portafoglio dell'innovazione per la pubblica amministrazione al momento. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una spinta molto forte al rinnovamento della pubblica amministrazione perché questa sia connessa, integrata, più vicina ai cittadini e alle imprese e soprattutto attenta a valorizzare e a difendere il patrimonio informativo dei cittadini. Questa pressione nel corso del 2020 è divenuta ancora più importante vuoi per il contesto pandemico, vuoi per gli attacchi informatici presenti continuamente, vuoi per l'attività dell'autorità garante per la protezione dei dati e abbiamo assistito ad una produzione normativa molto forte nello scorso anno che ha visto ad esempio il decreto semplificazione e innovazione digitale con gli obiettivi di ridisegnare la governance del digitale e accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici, ma anche il decreto Cura Italia per aiutare la pubblica amministrazione a dotarsi di tecnologie innovative e agevolare sia il lavoro agile che la didattica a distanza. E non ultimo, la terza edizione del piano triennale dell'informatica fino al 2022 per promuovere la trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana. Ma è di quest'anno, del 30 aprile del 2021, il via libera al piano nazionale di ripresa e resilienza e dell'istituzione di un fondo complementare per un totale superiore a 220 miliardi di euro destinato a rafforzare le infrastrutture digitali della pubblica amministrazione attraverso una serie di iniziative. Le vediamo perché sono molto importanti. A modernamento delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale, maggiore centralità delle persone e delle loro competenze, sviluppo della banda ultralarga del cloud computing e di oggi la notizia del ministro Polao che approva un cloud unico entro il 2022, la creazione di identità e domicilio digitale, l'impegno per l'interoperabilità dei dati per i servizi online ai cittadini, lo sviluppo di piattaforme digitali per le notifiche e un impegno sempre più forte nella cyber security. Tutto questo per dirvi che nel portafoglio della pubblica amministrazione sono presenti oggi importantissimi progetti di evoluzione strategica. E arrivo alla prima domanda che mi faccio ma ci fanno anche i nostri soci di CPM quando portiamo avanti dei webinar sull'innovazione. La domanda è proprio questa, sono progetti di innovazione anche quelli della pubblica amministrazione come quelli del settore privato? E soprattutto le definizioni di innovazione valgono anche per il settore pubblico? Partiamo da una definizione generale che viene spesso data. Innovazione è la trasformazione di un'idea in qualcosa di concreto e di nuovo rispetto al passato, che si riveli economicamente vantaggiosa nel rapporto con il mercato e generi valore per l'organizzazione. Anche la stessa ISO 56000, entrata in pubblicazione lo scorso anno, approvata lo scorso anno, parla di innovazione come entità nuova o modificata che realizza e ridistribuisce valore, laddove poi novità e valore sono attribuiti dall'organizzazione stessa o dalle parti interessate e leggasi qui un mercato che possa assorbire i servizi e i prodotti innovativi. Quindi in tutte e due le definizioni che abbiamo visto si citano termini come mercato, valore ed organizzazione, che sembrerebbero portare, sono definizioni che sembrano valide per il mondo delle organizzazioni private, dove progetti e programmi sono portati avanti per produrre nuovi prodotti e servizi da introdurre nel mercato, per generare profitti. E sembrerebbe che la pubblica amministrazione ne sia esclusa, ma non è così. Partiamo dalle definizioni di mercato, ad esempio, per dimostrare il contrario. Il portafoglio dei progetti di innovazione della pubblica amministrazione è strategica perché questa possa adempiere ai suoi scopi istituzionali. Infatti se la funzione di indirizzo politico individua obiettivi e interessi da perseguire, spetta poi alla pubblica amministrazione il compito di attuare questi indirizzi politici e di garantire il soddisfacimento degli interessi. Quindi le innovazioni della pubblica amministrazione sono strumentali all'offerta di servizi. Quali servizi? Sicuramente nuovi servizi per gli utenti che sono esistenti, quindi ampliamento del catalogo dei servizi, ma anche servizi esistenti per nuovi utenti, quindi con l'ottica di ampliare la platea beneficiaria, ma anche nuovi servizi per nuovi clienti, quindi ampliando sia il catalogo dei servizi che la platea beneficiaria. E con questo abbiamo visto che esiste un mercato degli utenti interessati ai servizi della pubblica amministrazione. Puntiamo ora l'attenzione sul valore. Qual è il fine generale della pubblica amministrazione? La finalità degli istituti della pubblica amministrazione è quella di ottenere, permettere il progresso economico e sociale delle comunità dove questi istituti sono inseriti e questi si differenziano dalle imprese in quanto la loro creazione di valore non è prettamente economica, quindi esprimibile solo in termini monetari, ma è atta a soddisfare molteplici bisogni che sono non economici dei cittadini per venire incontro alle loro molteplici e differenti esigenze. Quindi l'equilibrio economico di cui tanto si parla nell'innovazione delle imprese private è una condizione necessaria ma non sufficiente per la creazione di valore. Semmai è una condizione che permette l'economicità e la sostenibilità nel lungo termine. Questo significa che la funzione della pubblica amministrazione di garante del progresso sociale delle comunità dove è inserita dovrebbe essere mantenuta anche laddove non raggiungesse l'equilibrio economico perché è proprio riferita al soddisfacimento di bisogni non economici. Infatti con la fruizione di un servizio fornito dalla pubblica amministrazione l'utente soddisfa le proprie necessità e appaga i suoi bisogni. Quindi l'obiettivo delle innovazioni nel settore pubblico è quello di produrre valore di consumo, valore d'uso per gli utenti e i cittadini e la somma del valore dei servizi utilizzati, consumati dai cittadini rappresenta proprio il valore delle innovazioni introdotte. Tutto questo significa che anche nella pubblica amministrazione pur non essendoci uno scopo di lucro si produce valore. Analizziamo adesso il tema dell'organizzazione. Le organizzazioni sono entità sociali guidate da obiettivi in cui le persone interagiscono l'una con l'altra nell'esercizio di alcune funzioni per conseguire questi obiettivi e le attività sono proprio strutturate in modo deliberato per avere un'interazione con l'ambiente esterno proprio perché un'organizzazione senza interazione con elementi dell'ambiente esterno non avrebbe ragione di esistere. Quindi l'insieme di attività organizzate volte a fornire servizi agli utenti esterni all'organizzazione garantisce che anche l'APA è un'organizzazione a tutti gli effetti. Pertanto per rispondere alla prima domanda che abbiamo fatto in precedenza sì, la risposta è sì, le definizioni di innovazione valgono sia per il settore privato che per la pubblica amministrazione. Certo, nel settore pubblico forse vedremo più soluzioni evolutive nel senso di avanzamenti rispetto ad una situazione esistente. Quindi le innovazioni appariranno probabilmente come miglioramenti incrementali e forse meno come innovazioni radicali, quindi destinata a cambiare completamente l'ambito del mercato di fruizione di questi servizi. Proprio perché esiste una variabilità di interessi e una profonda diversità della popolazione, forse vedremo più innovazioni radicali, innovazioni incrementali, perdono, e meno innovazioni radicali. La seconda domanda che ci fanno spesso nei webinar di innovazione di CPM è questa. È più difficile gestire un progetto di innovazione nella pubblica amministrazione oppure nel settore privato? I manager privati si vantano, amano presumere che il loro lavoro sia più impegnativo dei progetti del settore pubblico, proprio perché i loro progetti appaiono più complessi, soggetti ad una supervisione gestionale più severa e obbligati a muoversi con velocità più elevate. Ma questo non è del tutto vero, infatti con l'adozione sempre più forte di approcci di project management nella pubblica amministrazione negli ultimi anni, si è fatta luce sul fatto che molti progetti del settore pubblico e in primis quelli dell'innovazione si rivelano alle volte più complessi di quelli del settore privato e più difficili da gestire. Perché? I perché sono tanti, ma sono da analizzare perché sono molto interessanti. Ad esempio perché questi progetti operano in ambienti caratterizzati da obiettivi e risultati spesso contrastanti, perché coinvolgono tanti livelli di stakeholder con interessi diversi, perché devono rispettare loro malgrado l'equilibrio degli interessi politici, perché impiegano le risorse esistenti. Infatti la pubblica amministrazione spesso ha vincoli di spending review o non ha i tempi o la capacità di strutturare uno staff adeguato a quel particolare progetto di innovazione. Perché è bassissima la tolleranza per il loro fallimento? Pensiamo a cosa potrebbe succedere se un progetto pubblico dovesse fallire o non portare i risultati sperati. Perché operano in contesti dove ci possono essere difficoltà ad identificare misure e valutazioni del risultato, oppure esistono dei vincoli imposti da regole amministrative o da processi politici complessi che causano ritardi, oppure consumano in maniera non produttiva le risorse del progetto. Oppure perché si dipende da prestazioni di agenzie esterne, come per esempio per gli acquisti, reperizie, valutazioni di impatto, e quindi non si ha il governo di queste variabili. Oppure perché sono eseguiti in organizzazioni che con certi progetti non sono proprio a proprio agio, oppure non hanno alcune amministrazioni la velocità, la produttività o l'uso di condividere e rispettare i criteri di successo. Poi perché operano sotto il controllo fortissimo dei media, ad esempio. Oppure sono eseguiti in ambienti dove esistono conflitti politici e spesso perché accumulano ritardo, laddove il ritardo non è un termine che va d'accordo con i tempi brucianti dell'innovazione. Esistono poi altri perché molto importanti. Uno di questi è per esempio perché i progetti di innovazione del settore pubblico spingono l'onere di pagare i progetti alle generazioni successive, perché hanno una portata nel futuro. Pensi per esempio ai progetti di responsabilità sociale o quelli per la fornitura di alloggi ai ceti meno ambienti. Ecco, i bisogni e gli interessi degli stakeholder che non sono ancora presenti al tavolo possono essere difficili da identificare e quindi portano dei ritardi o creano delle frizioni in questi progetti innovativi. Ma anche perché spesso non c'è la sufficiente maturità nella gestione dei progetti. Oppure ci sono progetti con forte ambiguità e incertezza, ad esempio progetti di cambiamento organizzativo molto forte o complessi progetti di information technology laddove per esempio i risultati vanno determinati strada facendo, quindi concetto agile di determinazione del risultato, o dove esistono molte interfacce o fattori che sono fuori dal controllo dei team di progetto. Pertanto se i progetti di innovazione del settore privato possono risultare alle volte ostici, in molti casi può essere più facile ottenere risultati nel settore privato piuttosto che nel settore pubblico. E infatti la risposta alla seconda domanda che abbiamo visto è proprio questa, i progetti nel settore pubblico hanno gradi di complessità paragonabili a quelli svolti nel settore privato e in alcune situazioni anche maggiori. Tant'è vero che esistono diverse motivazioni per cui un progetto di innovazione, ma anche un progetto generico nella pubblica amministrazione può fallire. Ne numero solo alcune per questione di tempo, per esempio la difficoltà ad assegnare la corretta priorità ai progetti, oppure la difficoltà di identificare tutti gli stakeholder interessati, ma anche la carenza di processi di gestione standardizzati e ripetibili che possono portare a risultati anche certi sicuri standardizzati. Anche l'esistenza di risorse insufficienti o non qualificate e quindi l'impossibilità di strutturare lo staffing adeguato, come anche la gestione di rischio non ancora matura. Ma forse, in Italia purtroppo c'è anche questo, cambiamenti politici troppo frequenti che creano disequilibri. E quindi concludo il mio intervento dicendo la pubblica amministrazione ha necessità sicuramente di innovare. Questo sarà possibile attraverso la conduzione e la gestione di progetti complessi. E quindi come fare? La risposta è questa, la prima risposta è questa, sicuramente accelerando l'innovazione della struttura organizzativa dell'APA e il percorso di maturità nella gestione di progetti complessi, ma anche dei progetti innovativi che hanno qualche grado di complessità in più rispetto ai progetti tradizionali. Grazie e arrivederci. Grazie Flavio per il tuo interessante intervento, grazie per aver fatto chiarezza su alcuni luoghi comuni. La gestione dei progetti di innovazione nella pubblica amministrazione è tanto importante quanto complessa e proprio per questo è fondamentale che la pubblica amministrazione sviluppi competenze ai sistemi organizzativi adeguati e che lo faccia nel minor tempo possibile. Proprio oggi il tema di discussione politica sono le modalità organizzative con le quali saranno gestiti i progetti da sviluppare con i fondi che arriveranno dalla comunità europea. Quindi è un argomento urgente da affrontare e speriamo che possa portare a un miglioramento del sistema paese anche dal punto di vista organizzativo. Lasciamo spazio adesso al secondo ospite, al secondo relatore, l'ingegnere Antonella Chirichiello, innovation manager e membro del consiglio direttivo ICPM. Le chiediamo come costruire una pubblica amministrazione moderna e che ruolo può e io aggiungerei che magari deve anche avere la digitalizzazione in questo processo. Grazie. Sì, grazie Vito. Condivido anche io la presentazione. Dunque, il punto di partenza di questo intervento è sicuramente la pandemia da Covid-19 e le conseguenze che ha avuto sul nostro paese. Alla luce di quanto stiamo ancora vivendo, io vorrei provare a declinare quale sia il ruolo della pubblica amministrazione nella fase di rilancio post-Covid e in qualche maniera provare a identificare questo concetto di pubblica amministrazione moderna anche tenendo conto di tutte quelle trasformazioni socioculturali che sono state proprio indotte dalla pandemia. Da questo poi cercherò di rappresentare quello che è il rapporto con i cittadini e il significato attribuito dagli stessi verso la pubblica amministrazione e come le tecnologie e le applicazioni digitali possono favorire questo rapporto e quindi garantire un'inclusione della cittadinanza anche nel mondo digitale. Tu mi hai ampiamente presentato, faccio parte dell'istituto dal 2016 e nell'ambito dell'istituto sono coinvolta in questo gruppo di lavoro che oggi qui è ampiamente rappresentato proprio sul tema dell'innovation project management. Allora entriamo un pochino nel vivo della presentazione. Dunque la pandemia ha sicuramente accelerato il processo di trasformazione digitale in molti contesti economico-sociali del paese mettendo drammaticamente in luce quanto le tecnologie digitali siano le infrastrutture portanti di un paese. Ora l'accelerazione ha fatto anche emergere tutte le inadeguatezze e i ritardi accumulati in questo processo di trasformazione digitale soprattutto della pubblica amministrazione e al tempo stesso ha anche evidenziato un aumento delle aspettative da parte dei cittadini, dei residenti, delle imprese nei confronti della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Infatti proprio tutte le misure di distanziamento sociali, il lavoro dal remoto ci ha fatto proprio comprendere l'importanza di poter avere a disposizione dei servizi digitali adeguati in grado di garantire continuità nelle attività lavorative e sociali come ad esempio appunto la possibilità di richiedere un bonus oppure anche un'assistenza sociosanitaria o segnalare eventualmente la diffusione del contagio da coronavirus. Ora la pubblica amministrazione sicuramente durante la pandemia ha avuto un ruolo centrale, infatti grazie all'utilizzo di alcune piattaforme e applicazioni come lo Speed, il sistema di pubblico di identità digitale, l'applicazione Io, la piattaforma Pago.pa, comunque si è riuscito a garantire ai cittadini dei servizi basilari attraverso proprio la rete internet. Però alla ripresa e soprattutto in vista dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza la pubblica amministrazione assume sicuramente un ruolo ancora più importante. Da un lato essa deve diventare la migliore alleata dei cittadini e delle imprese e attraverso un'offerta di servizi sempre più efficienti e accessibili deve essere in grado proprio di generare dei benefici per la cittadinanza. Dall'altro essa assume anche il ruolo di regista di una transizione digitale del paese, non soltanto offrendo dei servizi innovativi ma anche innovando se stessa attraverso un sano pragmatismo e grazie all'applicazione di soluzioni emergenti sia da un punto di vista tecnologico che attraverso l'adozione di nuovi modelli organizzativi che hanno come obiettivo quello in ultima istanza di offrire dei servizi a beneficio del benessere comune. Allora alla luce di quanto detto quindi qual è l'ambizione della pubblica amministrazione nella fase di rilancio? L'ambizione è quella di diventare appunto una pubblica amministrazione moderna che metta al centro della propria strategia di innovazione due obiettivi fondamentali, la soddisfazione dei cittadini e la qualità dei servizi erogati. Quindi questo vuol dire che nel suo percorso di modernizzazione la pubblica amministrazione deve essere guidata dalle esigenze del paese e la priorità sarà erogare servizi che abbiano un livello di qualità idonea, utile alla soddisfazione e al raggiungimento degli obiettivi dei cittadini. Ma come possiamo raggiungere questa ambizione? Beh è possibile farlo agendo su alcune eh direttrici strategiche. La prima è sicuramente un assessment di quelli che sono i principali gap da colmare a livello culturale, procedurale, tecnologico e quindi identificare quali sono i principali driver di modernizzazione che possono essere utilizzati per colmare i gap identificati. Poi è necessario riprogettare i processi della pubblica amministrazione in ottica digitale. Infatti non è sufficiente automatizzare i vecchi processi introducendo semplicemente automazione appunto. Alcuni passaggi delle procedure in essere potrebbero non avere ragione di essere nel mondo digitale e altri passaggi invece dovranno essere inseriti ex novo perché proprio peculiari del mondo digitale. Parallelamente a questa rivisitazione dei processi sarà anche necessario rivedere i ruoli e le responsabilità dei dipendenti introducendo anche buone pratiche di gestione soprattutto per quanto riguarda la gestione dei progetti e delle iniziative di innovazione. Ed infine è necessario anche potenziare le infrastrutture tecnologiche a disposizione della pubblica amministrazione e ripensare i servizi offerti all'utenza adottando un approccio appunto orientato alla qualità e focalizzato sull'esperienza dell'utente per ingaggiare il cittadino non soltanto su un piano puramente utilitaristico ma anche emozionale e personale. Infatti alcuni servizi che erano stati pensati per il vecchio mondo alla luce del nuovo mondo, del new normal post pandemia non saranno più idonei e quindi bisognerà inventarsene di nuovi. Infatti giusto per fare un esempio, oggi come oggi chi ha più voglia di andare fisicamente in un ufficio pubblico e richiedere un certificato? Piuttosto preferisco farlo online, riceverlo per email o scaricarlo da una piattaforma e poi decidere io quando stamparlo nel momento in cui effettivamente mi serve. Tutto questo che io ho diciamo commentato come ultima direttrice strategica si riferisce ad una metodologia chiamata innovation on meaning o innovazione di significato che è stata elaborata dal professor Verganti del Politecnico di Milano e invito i più curiosi eventualmente ad approfondire il tema leggendo il libro che ho citato qui nella slide. Allora aspettate dunque i driver di modernizzazione che possono essere sfruttati nel percorso di trasformazione della pubblica amministrazione sono sostanzialmente quattro a mio avviso. Il primo riguarda appunto le tecnologie e le infrastrutture digitali che devono essere sapientemente sfruttate e potenziate. Poi abbiamo la formazione e l'ampliamento della conoscenza dei dipendenti della pubblica amministrazione e l'adozione di pratiche di innovation e project management per garantire una efficace gestione dei progetti e delle iniziative di innovazione. Ed infine sarà anche necessario un cambiamento culturale all'interno della pubblica amministrazione sia centrale che locale affinché sia possibile innescare un'effettiva evoluzione della pubblica amministrazione. Ora nel mio intervento io mi focalizzerò prevalentemente sul primo di questi quattro driver mentre nell'intervento successivo che farà Claudia ci si focalizzerà sulla componente di innovation e di project management. Allora ovviamente dopo aver citato il covid non posso fare a meno che citare il piano nazionale di ripresa e resilienza. Nella missione uno del piano nazionale di ripresa e resilienza ci si pone come obiettivo quello di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del paese. Lo sforzo di digitalizzazione è centrale in questa missione ma anche in tutte le altre missioni previste dal piano nazionale proprio perché le tecnologie digitali sono considerate un elemento trasversale e infatti anche nelle altre missioni ci sono degli investimenti in settori più specifici come per esempio la scuola, la sanità, i trasporti e l'ambiente. Ma rimanendo su questa missione la prima componente di investimento riportata nella slide che cuba circa 10 miliardi di euro si pone proprio come obiettivo la trasformazione profonda della pubblica amministrazione attraverso interventi che aumentano l'efficienza delle infrastrutture digitali che sono preposte all'erogazione dei servizi e dall'altra poi ci saranno anche degli investimenti che riguardano l'arricchimento delle competenze digitali del capitale umano e quindi a sua volta una semplificazione dei processi con l'obiettivo di ridurre l'overhead burocratico. Riguardo a questa infrastruttura digitale diciamo sono tre i punti sui quali si intende intervenire nel piano. Il primo riguarda la migrazione di dati applicativi informatici sull'infrastruttura cloud come già diceva Flavio e questo porta sicuramente ad una razionalizzazione ad un consolidamento di tutti i vari data center che ad oggi sono distribuiti sul territorio. La seconda direttrice è quella che riguarda l'interconnessione delle basi di dati che attualmente sono distribuite in tutte le amministrazioni e proprio grazie a questa capacità di interconnessione delle basi di dati che le informazioni si potranno diciamo trasferire da un'amministrazione all'altra e questo comporterà sicuramente un beneficio per il cittadino il quale non dovrà ogni volta comunicare le proprie informazioni all'amministrazione e potrà quindi beneficiare di un servizio sicuramente più semplice e universalmente accessibile. Però lo sforzo di trasformazione sugli elementi architetturali della pubblica amministrazione deve essere anche accompagnato come dicevamo nell'introduzione da una forte rivisitazione dei servizi digitali offerti ai cittadini. Per comprendere questa diciamo rivisitazione è necessario ripensare al significato della pubblica amministrazione e tener conto inevitabilmente di tutte quelle che sono le evoluzioni dei modelli socioculturali che sono state anche indotte dalla pandemia. Allora una volta identificati questi nuovi significati si potranno progettare dei nuovi servizi che potranno essere erogati in maniera innovativa proprio grazie alle tecnologie digitali. Ora in questa slide io ho provato a definire un modello per l'innovazione dei servizi della pubblica amministrazione. Allora da un lato abbiamo il cittadino che è visto come un attore attivo non più mero fruitore di un servizio ma un soggetto in grado di partecipare alla creazione del servizio nel momento in cui questo viene fruito e contribuisce alla generazione del valore attraverso l'erogazione del servizio stesso. Dall'altro abbiamo la pubblica amministrazione che è rappresentata come costituita da due blocchi fondamentali c'è una componente di front end in cui si collocano tutti i punti di contatto tra l'amministrazione e il cittadino punti di contatto che possono essere di tipo fisico digitale o addirittura umano e poi c'è una componente di back end dove si collocano tutte quelle componenti della pubblica amministrazione come l'organizzazione le sue procedure le risorse umane i sistemi tecnologici e le applicazioni. Ora nel front end si colloca anche quello che è chiamato il confine di interazione con il il cittadino ed è il punto di di contatto attraverso il quale avviene appunto l'interazione mentre tra il back end e il front end abbiamo quello che viene chiamato il confine di visibilità ovvero quella che è sostanzialmente eh il punto di visibilità verso l'esterno della pubblica amministrazione intesa come sistema. Ora fuori dal confine di interazione parliamo di innovazione di significato e qui dobbiamo chiederci il perché di certi fenomeni di comportamenti proprio per identificare i bisogni e gli obiettivi di fondo del cittadino mentre il dentro il confine di interazione e quindi oltre quello di visibilità parliamo di innovazione di risoluzione e quindi ci muoviamo sul cosa offriamo al cittadino in termini di servizio sul come lo offriamo ovvero con quali tecnologie lo realizziamo. Allora stante quindi il modello precedentemente rilustrato affinché l'API innovi se stessa e sia in grado di generare valore per il cittadino deve essere ripensata secondo questo schema passando da una dimensione del perché a quella del cosa per arrivare al come. Quindi un'API moderna è un'API che è in grado di migliorare la vita dei cittadini e questo lo riesce a fare coinvolgendoli su un piano cognitivo e affettivo rispondendo effettivamente ai loro bisogni, alle loro necessità e alle loro aspettative. Ma un'API moderna è anche un'API inclusiva funzionale in grado di coinvolgere i cittadini su un piano ludico e sensoriale attraverso l'erogazione di servizi nuovi, servizi innovativi. Ma un'API moderna è anche un'API in grado di offrire servizi utili e di qualità coinvolgendo appunto i cittadini su un piano prettamente pratico e utilitaristico rispondendo alle loro esigenze di vita pratica. Allora diciamo che nell'elaborare questo modello ci si è ispirati a quella che è la cosiddetta experience economy e l'obiettivo finale è quello di offrire al cittadino un'esperienza d'uso che sia diversa e più appassionante. Diciamo che si passa da un mero servizio al tavolo ad un nuovo modo di fruire dello spazio del tempo durante la permanenza del locale ed è quello che dicevo prima quando ho citato l'esempio del certificato. Sono io a decidere quando stamparlo il certificato, sono io a scaricarlo dalla piattaforma e a memorizzarlo sui miei dispositivi in modo tale da poterne beneficiare proprio nel momento in cui effettivamente mi serve, senza dovermelo portare in tasca magari nel momento in cui mi serve me lo sono proprio dimenticato. Ora, in questo modello il cittadino come dicevamo prima è un soggetto attivo e l'interazione con la pubblica amministrazione comincia prima ancora dell'effettivo contatto diretto e questo è reso possibile proprio grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali, dei social network. Il cittadino ricerca informazioni sulla rete, sulla base dei suoi interessi, genera contenuti che vanno ad alimentare la conoscenza di altri utenti, si informa nella sua comunità di appartenenza e tutto questo prima ancora di interagire con la pubblica amministrazione. Allora, in questo percorso di interazione è come se elaborasse una sorta di journey, ovvero un percorso altamente personalizzato, altamente specifico che attraverso il passaggio di una serie di punti di contatto con la pubblica amministrazione il cittadino entra appunto in contatto, usufruisce di servizi. Quindi la pubblica amministrazione in qualche maniera deve identificare tutti i punti di contatto con i cittadini e presidiarli al pari di quello che fanno i grandi brand oggi quando utilizzano internet per entrare in contatto e comunicare con la propria clientela. Ora, è chiaro che le tecnologie digitali aiutano in tutto questo processo di innovazione, di significato e di trasformazione della pubblica amministrazione in una pubblica amministrazione moderna. Io qui ho solo riportato alcuni esempi di tecnologie e applicazioni, alcune le abbiamo citate all'inizio, lo speed, la carta di identità elettronica, la firma digitale, ma anche l'intelligenza artificiale, il machine learning, i big data analytics, la blockchain, sono tutte tecnologie abilitanti che hanno proprio come obiettivo quello di creare una esperienza d'uso nuova e ricca per il cittadino finale nel momento in cui questi viene in contatto con la pubblica amministrazione. Ora, il punto di arrivo di tutto questo discorso qual è? Alla fine creare una base di servizi che possano essere forniti secondo un principio di omnicanalità, ovvero a prescindere da qual è il canale di interazione con la pubblica amministrazione, sia esso fisico che digitale, di fatto il cittadino viene visto sempre allo stesso modo e riceve sempre un servizio con lo stesso livello di qualità atteso. E questo è possibile proprio interconnettendo tutte le infrastrutture, facendo in modo che le pubbliche amministrazioni comunichino tra loro e garantendo una sorta di uniformità anche nella gestione della relazione con il cittadino finale. Chiudo citando un esempio tratto da un episodio di vita personale. Allora, il portale il servizio salute Lazio, che è il servizio offerto dalla regione Lazio per erogare alcune funzioni specifiche della sanità, mi ha in qualche maniera meravigliato e osservato con molto piacere il fatto che si sia evoluto verso questo concetto di omnicanalità. Prima di questa pandemia non sapevo proprio dell'esistenza di questo servizio, il mio unico canale informativo sulle tematiche della sanità era la regione Lazio, se non addirittura i telegiornali regionali. E invece, proprio partendo dalla mia esigenza di prenotare la vaccinazione per i miei genitori, adesso per me è diventato un servizio estremamente utile che mi ha semplificato la vita. Ho cominciato a seguire Salute Lazio sui social network, ho scaricato l'applicazione sul cellulare con la quale ho anche fatto le prenotazioni, di tanto in tanto visitavo il sito per verificare se c'erano delle altre funzionalità che magari non erano presenti nell'applicazione, così come è stato messo a disposizione anche il call center per chi non ha dimistichezza con i servizi digitali, fino addirittura alla possibilità di rivolgersi agli ambulatori o ai medici di famiglia. Ecco, questo mi è sembrato proprio un esempio di omnicanalità che è stato in grado di generare valore in quest'epoca così difficile di pandemia dove la maggiore preoccupazione di ciascuno di noi era quella di non prendersi effettivamente il covid e di potersi vaccinare in tempi brevi. Ecco, io vi ringrazio di questa opportunità di condivisione di questo mio intervento, ringrazio anche l'istituto e di Forum PA per averci ospitato in questa occasione. Grazie. Grazie sicuramente a te Antonella per averci fornito questa direi prima di tutto appassionata visione di una pubblica amministrazione moderna in cui il cittadino è realmente al centro delle attenzioni della pubblica amministrazione, che addirittura si occupa anche di entrare in confidenza, anche l'aspetto ludico abbiamo visto, quindi veramente al centro dell'attenzione. Direi uno spunto che fornisce veramente, cioè un intervento che fornisce veramente tanti spunti di discussione. E ora passiamo la parola a Claudia Spagnolo, agile coach, esperta di gestione progetti secondo diversi approcci e anche esperta di formazione tramite gamification anche e membro del consiglio direttivo EasyPM. Con lei parleremo di quello che prima Antonella ha definito Innovation Project Management, quindi qui la domanda diventa come organizzare in maniera strutturata la gestione dell'innovazione e dei progetti che sono poi necessari per realizzarla, per farla diventare realtà in un ambito oltretutto particolare come quello della PIA. Grazie Claudia. Grazie a te Vito, ti ringrazio per la presentazione. Comincio a condividere subito lo schermo e andiamo al sodo. Come anticipava Vito, ci occupiamo di innovazione e di project management, quindi andiamo a fondere due discipline, quelle discipline, quella dell'innovation management e quella del project management. In questo breve viaggio ci occuperemo della ISO 21502 che si occupa appunto di project management e della serie ISO 56000 che si occupa innovation management, passando per alcuni punti chiave della gestione progetti che sono i benefici e il piano di verificare i benefici perché in quest'ottica di innovazione si sono sicuramente due elementi estremamente importanti. Gestire l'innovazione. Qual è l'elemento più importante? È comprendere che non arriva qualcuno che lavora ormai più negli scantinati o si inventa qualcosa. Per poter ottenere tutti i vantaggi delle nuove innovazioni abbiamo bisogno di un'organizzazione strutturata e di un approccio strutturato alla gestione dei progetti, quindi sia quelli di innovazione sia quelli di ogni altro tipo, perché vanno tutti insieme convogliati in un portfoglio di progetti su cui nel nostro caso la pubblica amministrazione deve decidere come ripartire le sue risorse, anche i suoi sogni se vogliamo. Quindi in particolare la ISO 21502 ci propone un modello solido project management abbastanza flessibile da poter essere adattato a tutte le organizzazioni. Qui potete vedere in particolare un'immagine tratta da ISO appena citata, in cui volevo semplicemente farvi notare che già questa ISO prevede che i progetti vadano in qualche modo raggruppati in programmi, i programmi in un portfoglio e che a seconda degli obiettivi fissati dall'organizzazione si sceglierà di puntare su un gruppo di progetti piuttosto che su altri. È chiaro che i soldi non sono mai abbastanza, non c'è mai abbastanza tempo, anche in quest'ottica bisogna scegliere quali progetti far partire e a quali rinunciare. Attenzione quindi perché abbiamo, la norma già ci propone vari livelli gestionali, per ciascun livello gestionale serve un decisore anche all'interno della pubblica amministrazione e tutti però dovrebbero spingere nella stessa direzione in modo da ottenere un solido public value per il paese. Attenzione, vi faccio notare un altro elemento interessante, sempre in questa norma si parla esplicitamente di requisiti, di business case, di benefici attesi, quindi prima di capire quali progetti avviare dobbiamo fissare chiaramente quali sono i benefici che noi vogliamo andare ad ottenere. In particolare questo ci porta a un altro elemento estremamente interessante, già nel 2009 il governo inglese ci diceva non basta più il triangolo dei vincoli, non ci bastano più tempo, costi e qualità per poter innovare e tenere in piedi bene il paese, dobbiamo anche andare a vedere quali sono i rischi e benefici a cui ci stiamo esponendo. Come anticipava appunto Flavio, se facciamo bene ma poi il prezzo lo pagano le generazioni future forse qualcosa non è stato ben tenuto in conto. Quindi i benefici sono ad oggi uno degli elementi importantissimi dei nostri progetti, quindi questi benefici misurabili devono essere ben censiti, dobbiamo introdurre dei KPI per ciascun beneficio e poi li dovremo misurare. Quindi per ogni beneficio fisseremo un range e andremo a redigere un piano di verifica dei benefici per tutti quanti, che ci deve essere fondamentalmente in un piano un cronogramma, un range entro cui devono stare e sicuramente ci devono dire come dobbiamo misurare questi benefici, perché già durante il progetto dobbiamo sapere come verranno misurati dal committente, dalla cittadinanza, quindi a quali elementi si farà più attenzione. Questi elementi andranno anche priorizzati, perché chiaro una pubblica amministrazione sarà più interessata a un alimento che a un altro e ci fornirà le mie guida per lo sviluppo dei nostri progetti. Qui ci tenevo ad introdurre velocemente quest'altro elemento, attenzione, i benefici non sono solo per l'APA, sono anche per i cittadini, sono anche per tutto il pianeta, quindi volevo portare alla vostra attenzione i 17 obiettivi redatti nel settembre 2015 da più di 150 paesi, per uno sviluppo sostenibile. In particolare non ci si aspetta che una pubblica amministrazione riesca a supportarli tutti quanti, ma nessuno ci impedisce di sceglierne tre, per esempio qui ho preso salute e benessere, istruzione qualità e uguaglianza di genere, e su questi ci si può concentrare, definire dei KPA e monitorarli. In particolare è chiaro che un comune come quello di Roma avrà esigenze differenti da un comune estremamente più piccolo, in cui magari, non lo so, la popolazione di donne sarà estremamente istruita e battagliera e quindi saranno più interessati all'uguaglianza di genere. Oppure ci saranno dei comuni che hanno problemi di istruzione, sembra che l'abbandono scolastico negli ultimi anni sia peggiorando notevolmente questo problema, invece magari in un altro comune si potrebbe puntare il più su questo elemento. Quindi la sostenibilità non è solo una bella parola, i progetti sono già pronti a supportare la sostenibilità, in che modo? Inserendo gli obiettivi di sostenibilità o fra i benefici ottenibili o fra i vincoli di progetto, priorizzando questi benefici, bilanciando il tutto con i contro benefici e, attenzione, so che mi sto ripetendo, so che posso sembrare noiosa, ma capita spesso che la PA non vada a verificare se i progetti che ha attivato hanno portato a casa i benefici sperati. Quindi il piano di verifica i benefici va in redatto prima che parte il progetto, se è possibile alcuni benefici vanno monitorati durante il progetto, ma sicuramente dopo che il progetto è finito dovremmo farci conti in tasca a capire se i nostri soldi sono stati spesi bene. Attenzione, non vorrei spaventarvi, può darsi anche che siano arrivati gratis degli altri benefici che noi non abbiamo contabilizzato, però se non andiamo a misurare e non lo sapremo mai. E adesso passiamo, appunto, dopo l'introduzione sulla ISO che si occupava di project management, sulla serie ISO 56000, che è appunto la serie sull'innovation management. Serie nuova, fresca, fresca. Il vocabolario è stato rilasciato a febbraio dello scorso anno e una serie costituita da una decina di norme, alcune sono già state pubblicate, altre sono in fase di pubblicazione. Ci tenevo a porre la vostra attenzione sulle prime due perché quando si deve introdurre ex novo un sistema di innovation management, prima di tutto bisogna prendere confidenza col vocabolario, con i concetti, con il mindset. Senza questi non c'è sistema di gestione che sta in piedi, ancor meno un sistema di gestione dell'innovazione. Quindi la prima ISO è quella che si occupa del vocabolario e dei principi. Altro elemento importante, attenzione, queste norme possono essere tutte applicate alla pubblica amministrazione perché una famiglia di norme generiche non è specializzata per un settore o per una dimensione di un progetto piuttosto che di un'altra. quindi l'importante è conoscerle, leggere e provare ad applicarle perché solo dopo aver preso un po' di esperienza si riesce a comprenderle meglio. Quindi come vi dicevo la prima norma contiene il vocabolario e i principi, i principi che devono aiutarci a settare il mindset e la due è la norma che ci fornisce le linee guida su come implementare un sistema di gestione dell'innovazione. Sistema che va ad affiancarsi a tutti gli altri sistemi di gestione se già presenti. Sistema di gestione qualità, sistema di project management, qualsiasi altro tipo di sistema già presente si devono tutti integrare in modo da andare tutti nella stessa direzione e di questo se ne dovrebbe occupare il project management. In particolare volevo farvi vedere anche quali sono i principi proposti dalla serie ISO 56000. Attenzione, qui ne vedete otto, sono quelli presenti nella norma ma è una lista aperta, qualsiasi organizzazione può aggiungere i principi che ritiene adatti a se stessa. Volevo solo farvi notare alcuni elementi, non li vedremo tutti in dettaglio. Il primo è la realizzazione di valore, rimanere concentrati sul valore, quindi non se fare le cose bene o se questo bene non porta valore. Quindi non ci basta la compliance formale. Abbiamo degli obiettivi da portare a casa e dobbiamo concentrarci sull'obiettivo finale. Il punto numero due, anche questo secondo me è estremamente interessante, almeno io l'ho sentito estremamente sulla mia pelle. Lavorare con leader, io direi addirittura con persone orientate al futuro. Perché se lavoriamo con persone che ragionano in termini, io ditemi che devo fare io lo faccio e non hanno una visione sul futuro, non hanno voglia di battersi per avere un futuro diverso o migliore, è difficile fare innovazione. L'ultimo punto è il punto numero otto. So che mi ripeto, ma non vorrei che vi sfuggisse, ma attenzione, abbiamo bisogno di una visione sistemica, di una visione integrata. Anche l'innovazione ha bisogno di un approccio a tutto tondo che va integrato nel mondo reale. In particolare, nello schema della ISO precedente, abbiamo visto che non solo c'è il mondo del progetto, c'è il mondo dell'operation. Ci sono persone che fanno cose e portano a casa risultati, che erogano servizi. Se mettiamo le persone che sono sui servizi, le mettiamo anche sui progetti, queste persone, tra virgolette, muoiono. Quindi non riusciamo più a erogare un buon servizio come prima e non riusciamo a portare a casa dei progetti innovativi perché non dedichiamo abbastanza risorse. Quindi se in questi progetti innovativi ci crediamo, abbiamo bisogno non solo di denaro, ma abbiamo bisogno di persone che ci possano lavorare e che ogni tanto possano riposarsi. Qui aggiungerei, ho solo aggiunto quest'ultimo elemento per darvi un ultimo cenno appunto su questo sistema di gestione e innovazione. Ribadisco che sono solo delle linee guida, quindi ciascuna organizzazione lo deve adattare alle sue esigenze. Può partire con dei processi più semplici e man mano renderli un pochino più complessi. Questa è tratta appunto dalla ISO 562 e nello schema vediamo chiaramente che partiamo dalle opportunità. Quindi quali sono le opportunità anche per la PA, le opportunità di innovazione, di spendere meno, di migliorare la qualità di vita dei cittadini o dei dipendenti. Una volta identificati dobbiamo andare a sceglierle in base a quali sono le nostre indicazioni anche politiche in alcuni casi. Solo dopo passeremo a creare e convalidare il concept, solo in un successivo momento andremo a sviluppare soluzioni. Spesso si parte direttamente dalla soluzione e la si implementa. Non si sa nemmeno bene quali problemi debba risolverli, ma risolvere, ma quell'altra organizzazione lo fa e facciamo anche noi. Ma a noi serve? Che vantaggio si è portata a casa a quell'altra organizzazione? Quindi confrontarsi è sempre sano, ma poi bisogna sempre calarsi nel proprio contesto progettuale, nelle proprie esigenze di territorio. È chiaro che ogni volta che andiamo a identificare opportunità, convalidiamo un concept, sviluppiamo una soluzione, viviamo in un mondo reale, quindi un contesto estremamente dinamico. Mentre penso una cosa, oh, mi è venuta un'altra idea. Quando il mio capo mi dice così, io comincio a essere un pochino preoccupata, perché di solito, lo dice sempre all'ultimo momento, ma è normale, sano, che ragionando su qualcosa, o lavorandoci sopra, fanno una soluzione, vengono nuove idee. È chiaro che vanno tutte imbrigliate all'interno degli obiettivi del progetto, del programma, del portfoglio, in modo che poi andremo a consegnare delle soluzioni che si spera siano utili per qualcuno e che abbiano anche avuto dei costi ragionevoli. Quindi il mondo dei progetti e dell'innovazione è estremamente legato, i progetti servono appunto per introdurre cambiamenti nelle varie organizzazioni, nelle varie realtà, e queste due ISO che io vi ho citato brevemente ci aiutano appunto a implementare il tutto con un approccio strutturato. È chiaro che poi dovremo fare il tailoring e adattarci a seconda che siamo sul comune di Roma o su un comune estremamente più piccolo, ma il messaggio con cui voglio lasciarvi è quello sul mindset. Se non cominciamo a ragionare in termini di benefici, di obiettivi e di innovare per stare meglio, non innovare per innovare, quindi un'automazione fine a se stessa, investiremo un sacco di energie senza portarci a casa un adeguato, una quantità di vantaggi interessanti. Ripasso la parola a Vito, spero di non essermi dilungata troppo. Grazie Claudia per averci indicato la strada verso un approccio strutturato alla gestione dell'innovazione e dei progetti. Grazie per la serie di riferimenti molto utili che ci hai fornito, tutti sicuramente interessanti da approfondire. Vado quindi alle conclusioni di questa serie di interventi. Che dire, sicuramente la sfida finale alla modernizzazione del paese è in corso. Abbiamo capito che è necessario rendersi conto che va affrontata con una visione chiara, con competenze manageriali specifiche e con un approccio strutturato. I modelli, gli strumenti da utilizzare sono noti e sono a disposizione ormai, come abbiamo visto, anche sotto forma di standard internazionali. Noi come Istituto Italiano di Project Management siamo impegnati più che mai ora nella loro promozione. Speriamo dunque di avervi fornito degli spunti interessanti da approfondire. Speriamo che questi spunti possano aiutare gli attori della PA, indipendentemente dal loro ruolo, ognuno fornendo il loro contributo ad affrontare questa sfida difficile, ma fondamentale per l'intero paese. Colgo ancora l'occasione per ringraziare e salutare i narratori e ringrazio tutti voi per l'attenzione, sperando di incontrarvi tutti nuovamente presto in un altro degli eventi del nostro Istituto. Grazie a tutti e arrivederci.